Ospedale San Donato ci sono dei cambiamenti importanti per quanto riguarda alcuni parcheggi. Dottoressa Innocente ce li vuole illustrare? Sì, dal prossimo lunedì 24 di giugno verrà allestito il cantiere per la costruzione dell'edificio Volano che occuperà tutta quest'area alle mie spalle. Siamo nell'area compresa fra l'anello interno e l'anello esterno dell'ospedale. Alle mie spalle c'è il sesto settore dell'ospedale che è da tutti gli aretini conosciuto come Palazzina delle Malattie Infettive. Chiaro che questo significherà un cambiamento sia nelle modalità di accesso a questa zona dell'ospedale che nelle possibilità di parcheggio. Qui potranno entrare esclusivamente gli utenti della dialisi che potranno accedere dalla quinta scala ma posteriormente alle malattie infettive. Ovviamente potranno accedere anche gli utenti con disabilità che avranno i loro parcheggi riservati. Poi potranno accedere gli utenti del centro trasfusionale e coloro che si devono recare alle camere mortuarie. Coloro invece che si devono recare al punto prelievi non potranno più accedere in quest'area. Fino ad oggi arrivavano direttamente con l'auto qua e parcheggiavano in prossimità dell'ingresso. Loro invece dovranno accedere dalla sbarra di ingresso dell'anello esterno cioè la strada che costeggia esternamente l'ospedale e costeggia gli accessi situati presso le scale antincendio. Avranno anche dei parcheggi riservati presso la quinta scala perché è all'ingresso della quinta scala che gli utenti del punto prelievi potranno accedere per poi scendere al piano di sotto con le indicazioni che daremo.